Non c'è una prospettiva a lunga gittata che possa garantire l'occupazione stabile per i lavoratori di Prato la Serra e anche nuova occupazione. Diesel sempre più bocciato dal mercato e Prato la Serra rischia di rimanere fermo al palo. Dal sindacato arriva l'appello alla riconversione della FCA. Per il segretario FIOM Giuseppe Morsa la vecchia produzione non avrà più ragione ad esistere. Presto bisognerà passare all'ibrido. I dati del mercato parlano chiaro. Segnalo il fatto che si vive di ammortizzatori sociali da anni a Prato la Serra e quindi ci sarà ancora un altro anno di sofferenza per i lavoratori di Prato la Serra se le cose vanno bene. Quindi chiediamo uno sforzo all'azienda che non faccia pagare sempre e solo ai lavoratori la crisi. C'è bisogno di atti straordinari, di mettere denaro, nel senso che garantire ai lavoratori anche in questa fase il salario che avrebbero avuto qualora lavorassero. Anche in questo chiediamo su questo tema un impegno degli enti locali a partire dalla regione. Immaginare un piano di formazione, quelle che si chiamano politiche attive, che permettano una riqualificazione dei lavoratori anche aiutandoli con un sostegno al reddito. Cosa che in passato è avvenuta e si potrebbe verificare anche adesso. Chiaramente oggi parliamo della FCA ma ci sono tanti lavoratori in difficoltà in cassa integrazione ai quali andrebbe dato un sostegno al reddito. Grazie a tutti.